buona la prima ragazzi qui è giustizorio siamo tornati con questo nuovo video questo è l'inizio di una nuova serie che si chiamerà road to shoot 15 dove io andrò a darvi dei consigli diciamo per per iniziare al meglio quest'anno su fifa ultimate team questo primo episodio parleremo di come fare crediti all'inizio come farci un po di soldi e io principalmente vi proporrò due punti il primo punto è quello dei doni quotidiani i doni quotidiani perché se voi vi ricordate l'inizio di appunto di fifa 14 entrando dalla web app c'erano dei doni appunto mille credo o crediti o pacchetti che all'inizio sono molto utili perché ci possono far guadagnare quei mille 2000 crediti che comunque ci permettono di iniziare al meglio quello che vi consiglio io a riguardo appunto è quello di farvi più account possibili in modo da ricevere più doni quotidiani possibili esempio voi fate anche anche un altro account due account vanno più che bene vi fate un account principale poi ne fate un altro e dove riceverte i quotidiani i doni quotidiani e li passate sull'account principale questo vi frutterà abbastanza all'inizio io mi credo che l'anno scorso questo modo ci piace circa 20 30 mila crediti che non è poco all'inizio anzi un altro l'altro punto fondamentale è quello della compravendita la compravendita perché se voi vi ricordate fino a dicembre dell'anno scorso la compravendita si faceva proprio facilmente io mi sono fatto veramente centinaia centinaia di migliaia di crediti con la compravendita poi sono usciti gli autobuyer è andato tutto a puttane va bene dettagli comunque credo che appunto all'inizio di foot15 gli autobuyer per foot15 non siano ancora stati creati ideati e comunque spero che gli esports metta dei freni a questi autobuyer che altrimenti è impossibile fare compravendita comunque all'inizio voi dovete cercare di puntare sui giocatori poco conosciuti prenderli a meno a poco e ripenderli a tanto sembra sembra scontata come cosa ma vedrete che all'inizio di fifa 15 rifrutterà parecchi crediti e non poco quindi questi due punti fondamentali sono per farsi dei dei crediti che comunque poi vi serviranno per fare per fare la squadra adesso parlando della squadra la squadra all'inizio voi non dovete puntare a nomi blasonati perché comunque costeranno veramente tanto basta che andate un po su footed vi spulciate qualche giocatore per esempio a inizio anno c'era one jesus che non era ancora adesso è un ottimo difensore che comunque costava poco per essere inizio di fifa ed era più che valido quindi io vi consiglio appunto andare su footed vi spulciate qualche giocatore vedere a questo difensore c'è a 75 di velocità va bene allora potrebbe servirmi vediamo quanto costa costa poco se è conveniente prendetelo perché ovviamente vi faccio un esempio caseres a inizio anno mi sembra che costasse 4 5 mila crediti perché avevo 81 di velocità e quindi non era nemmeno il difensore più forte quindi vi posso lasciare immaginare quanto saranno alti prezzi quindi vi consiglio di gioco su gioco di puntare a giocatori oro non rari e comunque possono dimostrarsi validi io comunque all'inizio di fifa 15 farò squad builder poco costoso in modo da permettere a tutti di iniziare al meglio e niente ragazzi io vi ho dato alcuni consigli poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste che parlassi di qualcos'altro sempre ricordante fifa 15 a un'altra cosa che volevo aggiungere all'inizio se voi avete crediti è conveniente se così possiamo definirlo aprire pacchetti perché anche i giocatori più scarsi oro non rari comunque varranno varranno molto perché ce ne saranno pochi sul mercato ovviamente all'inizio non tutti iniziano appunto tra 15 giorni ci uscirà web up e non tutti inizieranno subito con la web app alcuni aspetteranno uscita del gioco quindi se voi aprite vi trovate 7500 crediti che vavanzo anche 5000 aprite un pacchetto e ci guadagnate probabilmente perché i prezzi come come ho detto già saranno molto alti detto ciò fatemi sapere se questi piccoli trucchetti sono stati sono stati utili e se volete che parli di altre cose appunto come ho già detto niente il video finisce qui io vi invito a lasciare un mi piace se è stato utile questo questo breve video un commento appunto con scritto cosa ne pensate e se volete altri video di questo genere iscrivetevi non mi offendo non vi preoccupate niente noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi